Vicenza, 17enne, vendeva il proprio corpo per una dose di hashish, ma anche eroine e cocaina. La minore, non avendo i soldi per comprare la droga, era arrivata a concordare addirittura a un tarifario per le sue prestazioni. I fatti risalgono a 4 anni fa, ma oggi il marocchino 34enne che le vendeva la droga e usava il suo corpo andrà a processo. La giovane era entrata in contatto con l'uomo a Padova, dove aveva scelto di studiare e da dove rientrava solo nel tardo pomeriggio a Vicenza. I contatti avvenivano in zona stazione, dove la giovane all'inizio comprava l'hashish, poi il passaggio alla cocaina, fino all'acquisto di eroina per calmare gli effetti della coca. Ma spesso non aveva i soldi per pagare la dose, da qui la scelta di vendere il proprio corpo. Oggi la ragazza fortunatamente è riuscita ad uscire dalla spirale in cui era finita.